ciao a tutti ben tornati qui con captain of industries wapata boh ok ragazzi puntata precedente abbiamo fatto il vetro molto molto abbiamo ampliato il vetro infatti abbiamo già tutto pieno quasi quasi di vedno quasi già tutto pieno abbiamo cambiato la nostra produzione di energia elettrica e questa è già una gran bella cosa abbiamo acciaio pieno ferro pieno abbiamo produzione tutti al massimo stessa cosa con rame pieno vetro pieno qua mattoni pieno abbiamo diciamo che le nostre produzioni sono a buon punto anche qui il carbone piano piano si va riempendo anche perché piano piano ci arriva il carbone anche da qui non so se disattivarlo meno ma per adesso lo lascio perché voglio collegarlo con un nastro direttamente qui vediamo se questi hanno finito qua ancora no perché non hanno più dove scaricare poveracci qui vabbè qui vado a tirar via lo scarico perché così non rompono ok fammi a dire una cosa anche qui è pieno e che significa che questo lo spostiamo ok puntata questa puntata qui andiamo a fare i medicinali volevo farli nella puntata precedente ma non ce l'abbiamo fatta come avete visto vado a fare medicinali fase 2 che quello giallo che lo teniamo per fare il medicinale giallo abbiamo bisogno dei bianchi come potete vedere qua abbiamo bisogno dei bianchi più abbiamo bisogno di antibiotica l'antibiotica che la richiamiamo con zucchero ammoniaca un po di o2 andremo a prenderci l'antibiotica è un po di co2 che quello non manca mai perché dobbiamo inquinare un po l'ambiente perché altrimenti che bello c'è allora sta roba qui a questo punto mi di io direi che trasferiamo tutto questo lo trasferiamo qua sopra perché comunque abbiamo bisogno di zucchero e zucchero lo facciamo qui e anzi vi posso dire che di zucchero di canna da zucchero ne ho tonnellate anzi andiamo una cosa perché questo è troppo pieno così ruotiamolo perché non lavorano a perché perché zucchero qui è pieno invece non me lo da pieno perché questo cosa fa ok 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 allora sugar vediamo un po questo non ha più alberi da tagliare a proposito dovremmo andare ad iniziare a piantare anche qualche alberello vediamo un po fammi vedere una cosa vediamo un po come questi come sono messi ok allora sto punto devo far pure questi poi abbiamo finito con spianare i nostri pavimenti almeno spero vediamo una cosa se patate abbiamo finito qua ancora ce n'è di materiale da fare ragazzi voglio portare tutto ad un livello preciso o qui facciamolo così facciamolo così e facciamolo così ok allora per adesso qui di lavoro ne hanno andiamo a spostare la zona di lavoro in questo caso facciamo uno di questi ai non arrivo per un pelo lì ma per adesso basta così che adesso andiamo a mettere anche gli alberi e quasi quasi facciamo una cosa che iniziamo proprio con gli alberi così che loro iniziano a piantare sta roba e poi dovrei andare a cambiare i miei scavatori che di piccoli ne ho anche troppo ok va bene arrivato ci sono allora io direi che ne mettiamo uno piccolino qua ok e questo facciamo a farlo no che cacchio faccio prima devo far questo è ok ok perché non me lo fa vedere peccato volevo vederlo prima io allora facciamolo così così almeno vedo dove metto dove faccio dove dico e dove faccio questa roba qua la teniamo via questo va bene mi serve questo no mi serve questo ok e poi mi serve questo ok e questo è a posto poi questo lo facciamo adesso mi serve un coso per piantare per piantare gli alberi che andiamo a farlo dove non è qui in cui uno ok tanto nel frattempo devo crea produrre anche i cosi come si chiamano i che li produco mi sembra con una serra no vediamo tanto per vedere come cacchio nasi bisogno di una serra allora abbiamo detto che per fare i medicinali abbiamo bisogno vediamo se qui ce ne da qualcuno no perché ci vuole quella seconda non è questa ma fabbrica chimica dove allora abbiamo bisogno di uno di questi uno di più di questi abbiamo bisogno di questo poi abbiamo bisogno di un paio di fabbrichette secondo me anche di più di una poi abbiamo bisogno ne trovo mai fabbrica chimica 2 ok poi abbiamo bisogno di qua non c'è bisogno più niente abbiamo bisogno qui qualcosa che io sappia no ma sicuramente abbiamo bisogno di uno di questi ok e questo diciamo quello più o meno che ci serve per andare a fare la produzione di medicinale iniziamo con il bianco abbiamo bisogno anche di questo o questo forse mi basta questo uno e poi vediamo ok allora spostiamo tutta questa cosa un po più in qua questo un po più in qua questo è un po più in quanto andrebbe bisogno di due questo lo andremo a mettere più o meno così questo mettiamolo qui questo metteremo probabilmente qui e questo lo metteremo probabilmente anche qui adesso poi vediamo ok allora questo ci produrrà il etanolo che abbiamo bisogno di etanolo per tutto ok magari facciamo due due un'altra ancora non per l'etanolo ma per qualcos'altro adesso ok allora uno ci fa l'etanolo che abbiamo bisogno di etanolo per fare i nostri medicinali che altrimenti medicinali non riusciamo a farli uno di questo abbiamo bisogno per metterlo vediamo un caso mettiamo così è un acqua a fianco ok dobbiamo vedere un po dove vanno la roba ok e allora questo ci fa un abbiamo bisogno di questi per fare i medicinali è un abbiamo bisogno di di cui mi serve la cosa per fare la plastica fra la plastica mi serve uno di questi ok che con l'etanolo va bene allora questa ci fa la plastica questa ci fa l'ammoniaca abbiamo bisogno di ammoniaca questo per fare la plastica abbiamo bisogno di coloro ok allora più o meno quanto c2 più o meno qua adesso vediamo modo vero allora questo ci fa l'antibiotico e questo ci fa l'antibiotico abbiamo bisogno di etanolo no qua abbiamo bisogno di ammoniaca zucchero che arriva da qui e poi abbiamo bisogno di ossigeno che mi arriva da qui e mi fa l'ammoniaca l'antibiotico l'antibiotico che deve entrare qui no dov'è la cosa l'antibiotico deve entrare dove allora una questa sicuro e questa ok abbiamo una bianca è una già nome serve un'altra ancora per fare quella bianca per fare quella bianca abbiamo bisogno di un'altra cosa ok allora la bianca vanai gialla e questo va così questo lo metteremo qui e questo lo metteremo più o meno così così qua entra plastica abbiamo bisogno di un paio di di questi che metteremo più o meno qui no all'altezza così uno con la plastica ce la facciamo noi abbiamo bisogno di ferie acciaio ok vediamo allora lo zucchero entra da qui e facciamo etanolo 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 qua abbiamo bisogno di zucchero per fare questo va bene ok e qua facciamo sia l'etanolo che l'antibiotico qui abbiamo bisogno di etanolo che c'entra qui facciamo una cosa veloce ok e questo è a posto e qui abbiamo bisogno pure di cloro che arriverà con uno di questi loro etanolo etanolo bastano anche quei piccolini queste sono troppe allora e poi no ok da qua viene fuori la plastica che deve entrare qui per farmi questi questo ha bisogno anche di etanolo e plastica l'etanolo che al suo punto arriva pure da qui allora questo lo facciamo diverso ok di plasma la plastica però la creo io che significa dal paese che viene fuori da qui ok allora plastica allora questo ha bisogno di uno di plastica se non sbaglio vero sì ok allora facciamo mettiamo questo qua allora se questa ne ha bisogno di 12 che significa che questo ne sono due e poi qua mi deve entrare l'acciaio che mi arriva da qui e la plastica mi arriva da qui ok mettiamoli qui boh più o meno dovrebbe essere così ok qua poi mi arriva questo che ha bisogno questo ha bisogno di uno e due allora uno mi arriva da qui e l'altro mi arriva da qua ok allora questo entra più o meno così e questo entra così ecco dobbiamo vedere farci entrare la plastica ma allora l'ultimo pezzo del 75 che mi mancavano essere il rosso è arrivato vediamo se questo inizia a produrre oh sì allora abbiamo tanti gas di scarico che in un modo nell'altro dovremmo andare a posizionare o per meglio dire smaltire meglio ma per adesso lasciamolo così quello che ci interessa di più adesso è allora qui la priorità va qui sì prima forse dovremmo metterlo in modo diverso probabilmente se lo mettevo qua centrale vabbè ma non mi interessa allora qui cosa manca qui è già pronto uscito quello che doveva uscire di sicuro non dovevano uscire questi no questi e questi sì ok qua invece cosa manca qua non manca niente qua manca l'antibiotico vediamo se arriva perché non questo cosa fa dai che è in produzione secondo me ho sbagliato tubo ma forse si sai ah sì 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 ma l'abbiamo sbagliato tubo succede qua va bene sì qua va bene allora prendiamo questo e lo attacchiamo qui la vera qua ok vediamo se arriva oh sì arriva anche l'ammoniaca perfetto qui manca solo l'ammoniaca e qui subito è arrivata tanto non è che questa ne produce 6 l'ho cambiata ci ho messo quella un po più piccolina tu cosa ti manca perché non lavori è iniziato prima questa no lo so comunque qualcosa forse questo qua un parallel al rallentatore non ho capito perché ammoniaca c'è o cosa c'è ammoniaca una cosa un boba no dovrebbe esserci tutto probabilmente è solo perché è un po rallentatore ma comunque adesso dovrebbe tirare fuori la roba infatti ed eccola che arriva l'antibiotico ok arriva il augmenti c'è fix oral con la roba ed ecco i nostri gialli perfetto allora andiamo a cambiare alla nostra dove cacchio è qui qui farmacia questa si andrà a metterci qua i gialli e gialli in aspetto dei bianchi per caso me ne sono rimasti no però tanto vetro che devo smaltire in un modo dell'altro guardate quanto mangia per gli animali bisogna fare in un modo da riuscire a toglierli questi qua ok qui la produzione va funziona alla grande un po di plastica cambiamo in più la buttiamo qua tanto ci servirà per andare a fare la 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 che non mi viene adesso in questo teniamolo così così lo riempiono l'anno di cloro lo zucchero qui non ho capito perché non entra idiota zucchero non sale vabbè per quello non entrava ma va uguale ok questo a posto allora avevamo iniziato la cosa con gli alberi vediamo se possiamo assegnare questo è uno che raccoglie dopo dieci anni perché non è ancora pronto il mio perché mancano questi a presso a presso a presso facciamo subito questo così andiamo a piandare anche qualche albero bo eccolo qua finalmente abbiamo trovato il nostro pianta alberi andiamo a segnare pianta alberi così almeno abbiamo fatto anche questo qui assegno ok adesso ci devo solo vediamo un po se nel frattempo qua ok questi sono nati come lo facciamo facciamo con intanto uno di questi tanto per poi dopo andiamo a sistemarlo meglio mettiamo questi pochi arrivano benissimo è uno di questi o dove acqua lo andiamo a mettere qua così lui se lo trovo sempre bello comodo ok teniamo pieno e lui si deve appropriare export import da qui perfetto ovviamente per questo rompe però no aspetto mettiamolo così ok ok questa no e questo lo teniamo così ok allora il nostro dov'è il nostro pianta pianta grane qua o sta arrivando benissimo adesso sicuramente non ha ancora dei di cose da piantare ma gli arriveranno prima o dopo secondo me è già qua qualcuno gli sta arrivando vediamo no sì ci sta arrivando ma questo secondo me sta andando proprio lì a prendersi lì da lì ma lo sapevo io che te li deve prendo da un'altra parte bava comunque guardate adesso c'è lui cosa fa comunque si arriva a prendere lì babbo ragazzi direi che possiamo chiudere anche questa puntatina qua abbiamo fatto i medicinali gialli abbiamo iniziato a piantare gli alberi vediamo un po' vediamo un po' nella prossima puntata cosa possiamo fare io intanto vi do appuntamento al prossimo video sempre qui sul mio canale un salutone ciao 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 ciao